12 squadre, un livello di competizione altissimo, è arrivato alla ottava edizione il Fanta Prologo di Mercogliano. Nella sede di Viale San Modestino, l'adrenalina e a 1000, l'organizzazione perfetta dalla consegna delle cartelline alla scrivania dove i partecipanti si sono dati battaglia durante l'asta, tutto sotto l'occhio attento del presidente Fiorentino Saveriano. Il campionato è Coppa Italia, è una fanta realtà, quindi si ripercora un po' il campionato nostro, quindi effettivamente tutti diventiamo allenatori. Sempre, tutti allenatori. Il successo di questo gioco è quello che poi alla fine è nella realtà, tutti vorrebbero essere allenatori. La cosa bella che mi incuriosisce del fantacalcio è che tu sei costretta a tifare anche per squadre che casomai detesti, ma c'hai due o tre elementi, il rosa e anche il giocatore della Salernitana. Forse quello non lo riesco a prendere, è complicato, però sarebbe complicato gestire con l'avellino in Serie A. Ancora non mi è mai capitato nella mia vita fare il fantacalcio con l'avellino in Serie A perché ne ero nato. Speriamo che capita. Vogliamo ricordare nel 2020 che cosa è successo? Nel 2020, vabbè, sappiamo bene la pandemia, quell'anno ci siamo uniti tutti quanti, abbiamo interrotto, c'è stata l'interruzione del campionato anche di calcio e abbiamo deciso di fare una raccolta, quindi di una raccolta solidale, abbiamo omaggiato con il Montepremi del fantacalcio, quindi non c'è stato un vincitore in termini di denaro, ma abbiamo omaggiato tutto il Montepremi ai ristoratori di Mercogliano che hanno cucinato per chi non poteva permetterselo. Quindi è stata anche una bella iniziativa solidale. Insoliti i nomi delle squadre, composte da due partecipanti che hanno un solo pensiero nella testa, vincere senza sé e senza ma, perché in ballo c'è l'onore. Accipicchia Mungicqua. Che nasce il suo nome me lo devi spiegare. Perché allora praticamente in primis la squadra si chiamava Accipicchia, poi diciamo dopo una vittoria Mungicqua all'avversario e quindi abbiamo messo insieme, assemblato il nome. Non ti chiedo chi vuoi perché altrimenti le strategie, c'è il giocatore dei sogni. Ma sì, per me Lautaro è la pedina fondamentale della squadra. Ma non mi hai detto che si vince. Che sì, allora il premio diciamo più ambito di questo fantacalcio è la fama. Perché chi vince entra nella storia del fantaprologo. Quindi...